Allora, seconda parte di Trieste in diretta, siamo in compagnia, come annunciato, di Gustavo Ferrio e di Stefano Morganti, che sono campioni del mondo di Costa Rowing. Se qualcuno volesse la prova di tutto ciò, abbiamo anche una medaglia d'oro, che vedete, no, falla vedere tu adesso, che come potete vedere è di forma rettangolare, questo è un pochettino strano, è un design nuovo. Sì, in particolare. Allora, voi avete conseguito il titolo in Canada. In Canada, sì. Quanto tempo fa? Lo scorso weekend. Ah, proprio? Proprio una cosa fresca, sì. Bellissimo, insomma. Il weekend appena passato, sì. Eravamo a Victoria, vittisci Columbia, in Canada, proprio sulla costa dell'Oceano Pacifico. È stata proprio una bella esperienza conquistare questa medaglia, con il nostro gruppo, con il circolo che hanno utilizzato Saturnia e con questi compagni. Quanti insieme, gli equipaggi, da quante persone sono formate? Ma l'equipaggio in cui abbiamo gargiato noi era il 4 Costa Rowing, che è formato da, quindi, 4 vogatori più il timoniere. Che è quello sempre basso, più... No, più basso, sì. Che si occupa della direzione e dell'incitamento all'equipaggio durante la regata. E siamo andati in trasferta, noi cinque, più il nostro allenatore, Spartaco Barbo, che ci ha accompagnato in questa traversata. Che credo di aver avuto ospite, se non mi sbaglio. Io ormai arrivo ad un momento in cui non ne... Tutti del Saturnia o no? No. Come funziona in questo campo? Questo è un mondiale che si può svolgere anche in equipaggio misto, quindi in concomitanza con altre società, in collaborazione con altre società. E quest'anno l'abbiamo svolto in tre componenti del circolo canottieri Saturni, anzi quattro, compreso il timoniere, e un nostro amico, che ormai è un, diciamo, acquisto del circolo canottieri Saturni, che è un acquisto o non acquisto, ecco, che è Leone Barbaro, che è invece del circolo canottieri Tiregna Todaro di Roma. Ok, qui come si può dire una guest star, ecco, insomma, diciamo, mutuando termini da altre categorie, insomma. Allora, intanto, spieghiamo un po' che cos'è il coastal rowing. Intanto, rowing significa canottaggio, no? Canottaggio, sì, certo. E coastal significa proprio... Anzi, sarebbe, se lo vedessi scritto, si capisce meglio, no? Perché si dovrebbe dire forse coastal rowing. Coastal rowing, sì. Canottaggio lungo la costa, adesso, in termini. Il coastal rowing nasce in Francia, è una disciplina parallela al canottaggio, praticamente, è sempre canottaggio, solo che appunto viene svolto in mare, con queste barche adatte, proprio adatte e anche studiate per stare in mare, per cavalcare le onde, e la gara viene svolta come se fosse una sorta di gara di vela, ci sono dei giri di boa, c'è un percorso da fare, e quindi è anche più accattivante, per certi versi, perché... Noi vediamo alcune immagini, non so. Perché ci possono essere degli scontri durante la gara, comunque bisogna sempre stare attenti sui giri di boa, e proprio rende più entusiasmante il tutto, anche, se vogliamo, su questo punto di vista. E' una disciplina relativamente nuova? Sì, stavo guardando perché, sì, il video che stiamo mostrando è la nostra gara, spezzone della nostra gara, che appunto era il 4, sì, è una disciplina nuova, che è circa dal 2006, che si pratica, giusto, se non sbaglio, dal 2006, e si sta diffondendo in maniera molto, molto, molto veloce, in tanti paesi. E adesso, io non vorrei, insomma, ricordare male, eccetera, però mi sembra che fu un'intuizione, diciamo, del Saturnia, di comprendere che ce la si poteva fare, no? Cioè che gli equipaggi triestini avrebbero potuto farcela. Ma il Saturnia, negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, ha partecipato sempre a tutti questi campionati del mondo. Quest'anno è il quarto titolo, nel quarto di coppia, che viene portato a Trieste. Da parte del Saturnia. Quindi su circa 10 edizioni sono parecchie. Accidenti, direi che è una media più che notevole. Anche l'anno scorso, noi del Saturnia abbiamo vinto il quarto di coppia, e due anni fa, invece, secondi, siamo arrivati dietro alla Repubblica Ceca. E, voglio dire, noi abbiamo più facilità, adesso noi, è logico che quando uno ha a che fare con chi vince, siamo subito noi, diciamo, che ne so, potrebbe essere più semplice per gli equipaggi triestini, farcela per via di tutta una serie di ragioni, come potremmo dire, meteorologiche, meteorologiche, nostre, eccetera, che ne so, la formazione delle... Io su questo sono veramente un cane, per cui se dico delle bestialità, ditemelo subito. Non so, posso supporre che magari... il lungomare triestino è, diciamo, uno specchio di allenamento perfetto, per questi tipi di regata, perché, infatti, c'è anche l'idea di portare a Trieste un campionato del mondo di Costa Rowing, nei prossimi anni, l'idea c'è. Beh, noi quest'anno ci siamo allenati qui a Trieste, e anche con l'usilio della Bora, che la Bora è vista a Trieste come momento, diciamo, un po' di scompiglio generale, io penso, sì. Oddio, beh, ma per noi invece, quest'anno è stato un elemento fondamentale, perché allenandoci con tutto questo vento, che ci portava a disagio, dal punto di vista dell'aremata, delle condizioni, poi in Cana ci siamo trovati in vantaggio rispetto agli altri avversari, perché non c'era tantissimo moto ondoso, dal punto di vista di ampiezza d'onda, ma c'era molto vento, e molta corrente, e quindi la Bora può simulare, in un certo caso, onda bassa, molto molto vento, raffiche di vento, e correnti che spingono la barca a destra e a sinistra. Farlo vicino alla costa, insomma, l'essere appunto vicino alla costa, influisce poi, che ne so, si formano delle correnti particolari? Quello dipende più che altro da dove si svolge la regata, perché poi comunque, il campo di regata non è mai proprio vicino alla costa, ma rimane anche a largo, Sì, però comunque rimane a largo, quest'anno in Canada, c'erano forti correnti, e continuano a cambiare, anche durante l'arco della giornata, quindi non si riusciva a prevedere, se il giorno della nostra finale, noi alle ore 12, avremmo avuto un tipo di corrente, quello non si poteva prevedere. Quindi c'è tecnica e anche forza alla base di... E adattamento, io direi, adattamento alle varie condizioni che possono cambiare. Noi per esempio, la cosa che mi ha dato più, diciamo, al vedere è stare, è proprio, mentre effettuavamo il giro di boa, da un lato all'altro, quindi magari passavamo di 90 gradi rispetto alla boa, le correnti cambiavano e scarrocevano la barca dalla parte opposta, e qui, in quel momento, in quel frangente di secondo, l'equipaggio deve adattarsi, magari con alcuni spostamenti del corpo, appunto alle nuove condizioni per andare a remare bene. Domanda palesemente da non addetto ai lavori. Una situazione di questo genere, cioè uno scarrociamento, come si gestisce essendo in quattro? Perché posso immaginare, uno è da solo, che si arrangia come può e crede. In quattro come si fa? Allora, in quattro, la cosa fondamentale, comunque un equipaggio multiplo, è l'unione dell'equipaggio. Si deve anche, un po' sperare che comunque, una situazione del genere, si sia magari anche ritrovata nell'amento, però comunque, se l'equipaggio è unito, accade una cosa non prevista, il capovoga risponde in una certa maniera, anche quelli dietro, devono rispondere in quella certa maniera. Cioè scatta quasi un'automatismo. Esatto, è una cosa automatica. Non può succedere che ognuno faccia quello che vuole, sennò viene fuori un casino, un caos. Si, si viene fuori un caos. Ma si, immagino che, da quanto tempo voi, come si dice, remate? Da bugiamo, remate assieme? Assieme sono tre anni? Si, circa si. Circa tre anni. Che è un tempo, medio, lungo? Ma non è lunghissimo, anche perché io, arrivo dalla categoria juniore, sono due anni, andaventitrei, io sono, io ho vent'anni, lui ha tre anni più grande di me, quindi, no, però nel canottaggio questi tre anni possono cambiare categoria in categoria. Quando io ero juniores, Stefano era già senior, e quindi era difficile trovarsi in barca insieme, a fare delle gare assieme. Adesso invece, io sono comunque in categoria andaventitrei, lui è senior A, però le gare si possono fare assieme, perché ho tutta un'unica categoria racchiusa nel senior. So che è una domanda che non può avere una risposta, perché dipende poi da tutta una serie di fattori, eccetera, ma per esempio, un legame all'interno di un equipaggio, eccetera, dopo quanto tempo più o meno si stabilisce? Quello dipende anche molto dall'equipaggio, può essere che un equipaggio ci voglia veramente tanto tempo per unirsi, proprio sul colpo in acqua, sullo spostamento dei corpi sulla barca, e invece altre persone, magari soprattutto in un doppio, può essere che in un paio di uscite trovino già subito l'assieme, quello sì, però noi appunto abbiamo avuto questa fortuna che, pur non remando continuamente assieme, tutti i giorni, bene o male ci siamo trovati subito, comunque nella settimana che precedeva il mondiale, siamo riusciti ad unirci proprio tanto, e in Canada infatti la barca andava bene. Fisicamente è meglio che un equipaggio sia composto da persone, diciamo così, che ne so, della stessa altezza, dello stesso peso, eccetera, o non è fondamentale? Non è fondamentale, cosa dici tu Stefano? Per un fatto di pesi, di sbilanciamenti, l'equipaggio dovrebbe essere circa, sì, abbastanza uguale, comunque le persone dovrebbero essere, però non è così, nel nostro caso, il capovoga è il numero due, il carrello numero due, quest'anno ho fatto il mondiale pesi leggeri, ora ovviamente non erano in peso, però comunque pesavano meno di noi, anche di 10 kg, però è questo, e questo non ha influenzato, minimamente, anzi, secondo me, un equipaggio formato da atleti di diversa categoria di peso, che può essere un peso leggero e un senior, possono portare all'equipaggio stesso, i punti di forza dell'uno e dell'altra categoria, quindi la reattività di un colpo peso leggero, e la potenza e la corposità di un colpo senior. E' indifferente l'imbarcazione, cioè, o no? Sì, sì. Puoi parlare tu? No, no, la barca sì, è completamente diversa, praticamente, allora, il concetto è sempre quello, abbiamo un carrello che scorre sulle guide, il punta piedi, una scalmiera, i remi sono sempre gli stessi, del canottaggio normale. L'imbarcazione è diversa, sì, perché deve poter sostenere le onde, deve poterle cavalcare, e comunque devono... No, no, intendevo se, come dire, se nel giorno della gara, diciamo così, vi cambiassero l'imbarcazione, in questo senso intendevo, cioè, è la vostra? No, quest'anno no, quest'anno no, perché, essendo in Canada, i costi per il trasporto dell'imbarcazione sono troppo elevati, ci hanno noleggiato una barca completamente diversa da quelle che scegliamo qua a Trieste, una marca completamente diversa, infatti ci siamo trovati inizi un po', così un po' spesati, e dopo ritorna il fatto dell'adattamento che dicevamo prima. La maggior ragione, anche adesso, è ancora più... dovrei stare ancora più contenti, insomma. Sì, infatti. Poi, il punto era che noi avevamo degli orari di allenamento prestabiliti, già prenotati prima, e in ogni allenamento, anche due allenamenti al giorno, in ogni singolo allenamento, ci cambiavano la barca, che erano esattamente identiche le barche, ma le impostazioni dovevano essere rimesse a posto. Quello delle impostazioni. Le impostazioni, ovvero l'apertura degli scalmi, che varia per durezza in acqua o leggerezza, le leve dei remi, la lunghezza dei remi. Quindi ogni giorno, per ogni allenamento, dovevamo metterci a sistemare tutte le impostazioni, che non ci si sta tanto, però comunque ogni giorno. E le pedaliere, la lunghezza della pedaliere, che va rispetto a quanto uno ha la gamba lunga, quanto è alto. Sì, come per un musicista, suonare con uno strumento diverso, è sempre la solita storia. Credo che non sia del tutto indifferente. Quanto tempo prima siete arrivati in... Cioè, è necessario, come dire, quante uscite, mettiamola così, sono necessarie sul luogo della gara, per capire meglio... Oppure anche là, fondamentalmente, non è indifferente neanche in questo caso. No, no, no. Generalmente, sul campo di regata, campionati del mondo di canottaggio, si va circa una settimana prima. Circa. Dai tre giorni a una settimana. Quest'anno ci siamo... ci siamo dovuti volare prima, perché avevamo un po' il fuso d'orario. E quindi dobbiamo anche adattarci a questo. E infatti siamo andati una settimana prima. Noi siamo partiti il lunedì prima delle competizioni che sono state il sabato. Ah, ho capito. Quindi avete avuto... Sì, una settimana. Allora, parliamo... Archiviamo intanto questo, insomma, archiviamo, per modo di dire, insomma. Perché poi io immagino, adesso io non ho mai fatto sport, è anche abbastanza evidente per la mia verità, ma, insomma, immagino che, insomma, essere campioni del mondo non è una roba indifferente. E no, no, no. No, vero? No, no. È sicuramente una bella soddisfazione. Soddisfazione. No, perché... Beh, sì, rido perché è stato proprio bello. È stata un'emozione proprio bella. Io poi voglio aggiungere che è veramente, secondo me è stato veramente bella vincerla con questo gruppo. Sì. Me l'ho data da parte mia, proprio l'ho vissuta in maniera diversa, anche rispetto agli altri campionati, perché è un ambiente diverso. È proprio... Però ecco, io mi domando se... Vabbè, magari voi siete ancora giovani, per cui... Però credo che nel vostro futuro, insomma, anche nel vostro immaginario, vi porterete avanti, vi porterete con sé soprattutto anche il luogo, no? Eh, così. Perché questo io non riesco... Ho cercato sempre di fare questa domanda anche nel campo dove io sono più ferrato, cioè quello degli attori in sé, un teatro particolare significa qualche cosa, che ne so, un set può significare qualcosa di particolare ogni volta che lo si rivede. Io penso che per uno sportivo forse addirittura è ancora più sentito questa cosa, no? Sì, sì, assolutamente. Andare a Vittoria in Canada, così lontano da casa, diciamo. E che anche questo non è poco. Affrontare un viaggio così, in compagnia, in questo scenario completamente diverso da quello che sono le nostre coste, da quello che sono i luoghi qua in Europa, è sicuramente positivo. Dopo ovviamente uno sportivo, in particolare, vabbè, noi canottieri magari ricordiamo un campo di gara in maniera più positiva, più negativa, poi da come va la regata. Esatto. Però questo, insomma, penso che no. Esatto. Però comunque l'esperienza in sé rimane. Di spostarsi così, no? Assolutamente. Si riesce a... Adesso anche questa è palesemente una domanda di chi non ha fatto sport. Ma, insomma, si riesce a mantenere, non voglio dire un certo distacco, ma, come dire, e nemmeno perché è impossibile non farsi coinvolgere, no? Però, io ricordo sempre una frase di Marcello Mastroianni, che vale per gli attori, ma penso che possa valere anche per gli sportivi. diceva che l'attore dovrebbe avere un terzo occhio che gli consenta di vedersi mentre recita e gli consenta anche di dire oh, sta attento, non far questo, non far quell'altro, eccetera. È un concetto quasi di distacco positivo dal non farsi coinvolgere, eccetera. Per uno sportivo penso sia più difficile non farsi coinvolgere nel momento stesso della gara. Sì, beh, diciamo che secondo me un atleta si concentra sulla gara che va ad affrontare. Finita la gara che va ad affrontare ce ne sarà un'altra successivamente e quindi secondo me è una questione di obiettivo e poi noi abbiamo vinto il mondiale, siamo tornati a casa, abbiamo festeggiato, ma tutti noi abbiamo la consapevolezza di dire ok, abbiamo vinto il mondiale, questo passo è archiviato. archiviato, eccetera. Ora siamo all'inizio di una stagione nuova con nuovi obiettivi e dobbiamo metterci, dobbiamo impegnarci, allenarci e diciamo dare il nostro per cercare di portare a casa risultati almeno uguali alla stagione precedente. È un dato da rubricare e poi dopo essere contenti esatto, esatto. Sì, sì, no, è dato di farlo assolutamente. Parliamo adesso invece del cannottaggio in senso in senso lato, eccetera. Io ho avuto molte volte la possibilità di intervistare gente che lo pratica, di intervistare anche allenatori, di intervistare anche gente che lo fa per esempio c'è una mia amica che si chiama Alessandra Dugan che si prende ogni estate con altre quattro e vanno in giro con un'imbarcazione per raccogliere anche dei fondi o per sensibilizzare credo sia uno delle non mi ricordo a quale società fanno capo. Insomma, Trieste è una città che basta andare per le rive per capire quanto sia importante il cannottaggio. Tu non sei triestino, no? Sì, io sono di Vicenza però abito a Trieste qui da sei anni. Ah ecco, sì, mi ricordavo che vedete che ho iniziato dal 2012, sì, quindi sei anni perfettamente sei anni. Ma voglio dire è una tradizione di famiglia? È una tradizione che si come dire che magari si conosce per caso e poi si intraprende? Tutto per fare in maniera un po' come dire un po' articolata la domanda come avete cominciato a fare cannottaggio? Allora chi risponde? A me fa sorridere perché lei chiede una cosa che potrebbe rispondere a un triestino Doc io sono qui da sei anni e lei va a parlare con un ragazzo del lago di Como Ah, ho capito non sapevo Quindi siamo due diciamo importati a Trieste per vari motivi diversi Beh, io ho iniziato Ho fatto anche sta figura No, vabbè ma secondo me secondo me è un potrebbe essere un motivo ancora più maggiore nel senso anzi anche più maggiore non si dice ma ancora maggiore per capire appunto cosa leghi trieste e il cannottaggio Io ho cominciato il cannottaggio perché mi sono trasferito qui nell'anno tra la seconda e la terza media quindi in un anno non semplice e ho perso tutti gli amici che avevo a Vicenza non persi perché ma persi di vista perché saranno due ore ma sono sempre due ore e le vite sono diverse e io ho cominciato a fare cannottaggio perché appunto mi ha ipnotizzato il mare perché a Vicenza io in campagna il mare poi ha diciamo ha influenzato tutte tra virgolette le mie scelte sia in campo scolastico che in campo sportivo perché da un liceo scientifico dopo le medie che ero fissato di fare sono passato al nautico Ah e quindi è un altro un altro paio di maniche e appunto lo sport il cannottaggio è entrato lo sport che pratico e che voglio continuare a praticare e quindi sì è stato perché appunto affascinato da questo mare da questa città sportivissima da tutte queste società con una grandissima storia di base e sono rimasto affascinato da quello e ho voluto cominciare a provare e ne è valsa la pena quindi hai incominciato sui 12-13 anni sì che è un'età alta o non necessariamente è giusta praticamente no ok giusta sì di solito si inizia in prima media ah beh intorno a prima media sì sì tu invece quando? io invece ho iniziato appunto in prima media sul lago di Cuomo infatti dove abito e io sono sempre stato e lo sono ancora adesso innamorato del mio lago mi piaceva vedere le montagne e comunque tutto quello che circonda da un altro punto di vista quello dell'acqua e ho iniziato così proprio per caso e mi sono spostato poi a Trieste per motivi di studio inizialmente e poi comunque perché volevo continuare il fracanottaggio ho conosciuto Spartaco per via delle gare con la nazionale e poi il circonetto Saturnia e tutto il gruppo dei ragazzi e ora dopo tre anni perché sono qua dal 2015 continuo non hai visto Clooney sul lago di Cuomo l'ho intravisto una volta sì io ho dei parenti che stanno da quelle che stanno da quelle parti insomma per cui effettivamente boh è uno scenario anche abbastanza magico è particolare sì è molto particolare c'è un mio amico che dice non capisco l'idea del mare chiuso quando parla di laghi insomma francamente basta che non vedi il lago di Cuomo è grande cioè ci sono stato è da l'idea quasi di un mare da l'idea però è chiuso va bene fa di sui è una disciplina è una disciplina molto voglio dire ci si deve mettere di impegno come in tutte le discipline anche le bocce per dire la verità è inutile però questa è una disciplina anche che richiede un allenamento particolare sacrificio io credo so di forse me l'avrai contato anche tu di andare ad allenarsi la mattina la mattina presto prima di andare a scuola non è proprio no no ma lo paga dopo in mattina per tutta una serie non soltanto vincendo credo io volevo tornare dal punto di vista che diceva prima Stefano dell'attaccamento perché è stato bello vincere con questo gruppo io parlo personalmente quando tu a parte di canottaggio a livello alto è difficile trovare uno sbocco di vita tra virgolette diversa da quella che hai nella tua società perché colleghi canottaggio università o scuola o quello che fai canottaggio è una continuazione quindi trovi attaccamento e diciamo amicizia all'interno del tuo circolo bene o male e questa cosa appunto di condividere momenti di sport ma come momenti di vita esterna che può essere stata la cena il pranzo la serata con gli amici sempre con le stesse persone almeno per me ha fatto crescere un tipo di rapporto veramente veramente unico con i compagni che poi mi sono trovato in canada a fianco a fianco anzi uno di fronte all'altro a vincere la gara a maggior ragione non voglio fare psicologia da catto a maggior ragione ad una certa età perché corrisponde anche nel caso tuo con l'età della formazione credo che da questo punto di vista sia un ulteriore perché condividere tutte quelle ore al giorno assieme e portare un risultato come questo a casa assieme è una cosa veramente impagabile impagabile veramente è una cosa veramente bella però questo allenarsi la mattina presto dopo andare a scuola come si arrivava a scuola un po' magari non contenti perché immagino che poi quando mi allenavo prima di andare a scuola era devo dire che era veramente massacrante da un certo punto perché sì i primi giorni si resiste vai poi anche a scuola stai attendo poi gli ultimi giorni veramente a volte dormivo veramente sul banco veramente perché comunque dopo fai sempre fai sempre più allenamento accumuli stanchezza prima o poi di che ore si parla di quali orari si parla alle 5 della mattina sì beh quando io alle scuola sì dalle 5.25 allenatore 5.25 piazzale delle barche però non ti aderà fuori le barche poi quando hai l'università o meno male hai la vita hai sei e un quarto ah beh insomma sì sei e un quarto 5.25 sei e un quarto sono 50 minuti di sonno guadagnati eh vi assicuro che cambiano cambiano so 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 guarda anche noi quando abbiamo quando abbiamo la trasmissione della mattina poi i 50 minuti ti salvano la vita sì sì no questo è vero però insomma poi dopo immagino che appunto la fotografia come questa che vediamo adesso credo che sia ripaga di tutte quante le chi è arrivato secondo il Principato di Monaco oh sì il Principato di Monaco è una nazioncina che sviluppa molto il Costa Rowing e punta molto su questa competizione infatti però loro anche sportivamente voglio dire anche la squadra di Monaco che in Francia non è che si dice e però su questa su questa parte della stagione appunto Costa Rowing focalizzano tante tante energie e preparano la barca in maniera sempre molto buona infatti sono sempre diretti avversari che anche negli altri io è il primo anno che faccio il 4 Costa Rowing al Mondiale però Stefano insomma le edizioni precedenti possono confermare che sono sempre siete degli avversari validi qual è la nazione più per certi aspetti più più che ne so dove per tutta una serie di ragioni anche magari per la per la formazione morfologica eccetera quella è una nazione con maggior tradizione di Costa Rowing forse la Francia sì dove è nato dove è nato Costa Rowing però l'anno scorso avrei detto più subito come italiani l'anno scorso noi abbiamo vinto il medagliere per dire l'Italia ha vinto il medagliere così i francesi ancora una volta sì però quest'anno l'hanno vinto loro per partecipazione di barche abbiamo vinto il medagliere sì avevano scritto che veniva Piero Sfiligo invece c'è Stefano Volgatti sì sì l'abbiamo detto sì sì mi odierà Piero per questo no vabbè è bello che ci avvertono quando stiamo finendo eravamo avvertiti eccetera forse ok allora abbiamo ancora meno di un minuto che è una devo chiudere con la domanda più stupida che possa esistere però è una domanda che aiuta a chiudere adesso cosa cosa vi siete riposati eccetera adesso quali sono i prossimi impegni ma parla lui perché io sono dica tanto allora infatti allora i nostri i nostri prossimi appuntamenti siamo sempre noi tre ragazzi che mi hanno fatto Costa Rowing purtroppo cioè purtroppo con un ragazzo del Cuspavia perché io e Piero Sfiligo facciamo parte del college del Cuspavia Piero Sfiligo è una specie del comitato di Piez e vogliamo anche salutarlo Piero salutiamo Piero e salutiamo anche Leone e Piero l'altro perché era anche il timoniere todesco che non sono venuti qui ma sono qui con noi abbiamo organizzato questo quattro ricoppie con il Cuspavia il prossimo il prossimo weekend questo è il gareggiere Mapusiano per una gara di fondo vicino al lago di Como poi con lo stesso equipaggio andremo a Londra sempre torniamo il weekend dopo parteciperemo alla Silver Skiff che è una gara in singolo su 11 km a Torino e per concludere c'è la gara di fondo su 6 km a Saccuola San Giorgio che è il mio prossimo appuntamento anche mio perché negli altri appuntamenti mi hanno abbandonato sono più piccolo mi hanno messo da parlo a fine mese il 23-25 novembre grazie davvero per essere grazie a lei grazie a lei grazie a Gustavo Ferrio e Stefano Morganti per essere stati con noi complimenti davvero come si dice c'è un modo di dire pulito per dire in bocca al lupo teniamo quello c'è un altro modo che riguarda più il mare ma non è troppo adesso c'è l'appuntamento con il Rossetti con Trieste in diretta noi ci vediamo domani sempre alle 18 grazie a tutti ricordatevi che domani c'è anche Star Bene TV grazie a voi grazie grazie a tutti